Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrix0198 ad oggi, sono qui con questo nuovo video di Minecraft... Sì, poca del edition, sono andato via ora... Minecraft MyPack2! La cosa bella è che io, due secondi fa, avevo fatto un video. E, indovinate un po'? Eh già, è crashato ScreenFlow! ScreenFlow e ScreenFlow non mi ha registrato niente, 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 ok, avete capito. E vabbè, comunque non ero nella cosa di Minecraft, quello normale, cioè Minecraft normale nel senso di Minecraft Vanilla, ma ero appunto nella Minecraft MyPack2. Qui con me c'era Michael, che credo che sia già appena entrato. Sai? Sì. Che, appunto, aveva parlato con me, però, visto che il video se n'è andato, rieccolo. Sì, come avete visto ho trovato dei diamanti, ma tanto questa qui non è in mondo di YouTube, perché appunto userò un altro salvataggio che ora, però non mi va di editare off camera, ma lo farò un po' più avanti, ecco, non subito, un po' più avanti lo farò. Non più avanti nel senso fra un anno, no, no, è fra poco tempo, comunque. Comunque, vabbè, praticamente ho iniziato a fare il video 15 minuti, Michael sarà? Sarà stato? Sì, più o meno. 15 minuti fa, e diciamo che sono sceso in caverna e non ho fatto nient'altro, mi sembra, no? Cioè, ho girato un po' con i miei macchinari, ma non ho fatto nient'altro, mi sembra. No, no, non dovrei aver fatto nient'altro. Comunque, vabbè, per sicurezza ora stacco un attimo, cioè, stacco, vado un attimo a casa e vi fa vedere il setup che ho scelto per i miei... No, ho rotto il piccone di ferro. Ok, è l'ora di andare a casa. Ok, come vedete, ho aggiunto un hopper, che è l'hopper di Minecraft, cioè, Michael sta, tipo, soffocando nel microfono. Vabbè? Sto morendo. Poi, lol, l'electric fur... Black furnace, il macerator, che ora userò per il ferro, e vabbè, l'extrattor. Come prima cosa, la, diciamo, la più importante è che questo video, cioè, questi video in questo salvataggio verranno, infatti, dovranno essere presi molto, diciamo... Alla leggera. Sì, bravo, diciamo, più che era leggera, a scopo, fra virgolette, dimostrativo, nel senso che qua farò molti macchinari i quali non farò, appunto, nel mondo della serie. Qua farò Minecraft, appunto, MyPack 2, una parte, e lì farò una parte, diciamo, tecnica, qui farò sia la tecnica che altre cose, però, più che altro non mi concentrerò sulla tecnica. All'inizio, sì, mi concentrerò sulla parte tecnica perché c'è solo quello da fare all'inizio, quindi farò solo quello. Poi, però, andando avanti, proprio toglierò la parte tecnica. Non del tutto, ma la toglierò. Quindi, cosa devo fare ora? Ora volevo fare due upgrade da cesto di legno a cesto di ferro, che così avevamo un po' di spazio. Come vedete, c'è già uno qua. Quindi, ah, sì, ho fatto la project bench, che fa vedere le cose qua sopra, ma non vi ricordo se era... Eh, cosa? Cosa hai detto? Non vi ricordo se era... Facendo un video con un mio... Se era un... Appunto, in un video che l'ho fatto. Però, non ne ho idea. Però, vabbè, eh... Diciamo che... Non è tanto... Eh... Come si dice? Non è tanto... Non mi ricordo come si... Vabbè, non è tanto estensiva da fare. E... Vabbè, non so il termine. Punto. Prima di niente si prendono due pezzi di stone, due pezzi di ferro... Due pezzi... No, aspetta. Due pezzi di legno, due pezzi di ferro, un pezzo di vetro, una workbench e una... E una cesta. Il vetro credo che sia la parte sopra per far vedere cosa viene fuori. Comunque, allora... Lag permettendo. Non so perché nemmeno sia laggando. Ah, forse perché sto rientrizzando il video. Ma no, non può essere, cavolo. Non può essere. Faremo un piccone di ferro... E indovinate? Sì, un piccone di amante. Di... Un piccone di amante, ho detto. Però, vabbè... Che metteremo qua perché voglio appunto prendere la... La cosiddetta obsidian. Siamo un attimo questo qui. Prendiamo questo più... Michael, stai soffiando sul microfono? Ehm... Ok. No, no, aiuto. Se potete... Sarà attento che... Se no, non si sente niente delle mie voci. Tanto c'è... Amaci che non mi prende la chiocciola. Lalle. E... Vabbè. Direi di prendere questo. Intanto mi arrivano messaggi a buffo. Prendiamoci il ferro. Il legno. E... Direi di riandare in caverna da quella parte. Però, aspettate. Prima prendo un secchio di ferro. Sì, sì. Un secchio di ferro. Ci metto il secchio... Il ferro dentro. Prima ci metto... Oh, dai! Un minuto. Dai, 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 dai. Ma sto ferro è di coccio, sto ferro, eh? Cioè, cavolo. Eh? Ferro tarocco. Sì. E cavolo, cioè, io lo butto lì e... Cioè, non lo butto lì. Cioè, io cerco... C'è, cioè, c'è, c'è. C'è, 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 c'è. C'è, 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 c'è. C'è, 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 c'è. E... Ma perché frizzy? Ma non è nemmeno lag, è frizz. Vabbè. Dunque, prendiamo l'acqua e andiamo alla caverno. La caverna, mi sembra, questa. Non mi ricordo. Ok? Buggone megalalattico. Perché ho preso il secchio? Perché voglio fare l'obsidian. E appunto voglio andare nel... Nel nedro. Oddio, stavo per morire. Ah, 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 ah. Ok, via. Via, 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 via. Devo scappare. Creeper, creeper. C'è uno scheletro. Tanto Michael è troppo silenzioso. Tipo, ora mi sbuca da dietro e... Con una specie di coltello. Il mio coltello. Ok, basta per gli scemi. Tipo, Michael pensava che mi avessi preso un... Che bel cappello che hai! Sei bellissimo! Il cappello da clown! Non ce l'ho io, no, non ce l'ho io. No, cavolo, mi stavo uccidendo. Non voglio morire con un clown! Ok. Mi, ma sei un cecchino, cavolo. Cosa? Sono anche clown striscianti. Sono peggio dei clown. Mori. Oh, sì, l'ho ucciso. Ma... Ma ce l'avevo già, sto cappello. E allora cosa non pire male, sto cappello. Spreggio figo il cappello di Mr. T. Gli star ti sta male? Eh? Di starti sta male quel cappello a tosto? No, è troppo pixeloso, diciamo. Pixeloso. No, davvero, è troppo pixeloso. Intanto ci sono miliardi e milioni di zombie. intanto io non trovo pezzi di lava da prosciugare però è lo stesso ma da dov'è che sono entrato io? non mi ricordo ah dalla sopra anzi no, non lo so in realtà però ci tiro a caso e entro dalla sopra dai ma perché frizzi? non sei mica acqua frizzata ok dopo questo me ne vado magari c'è sto da stream marco che fa venire le bolle ok dopo questa vattene via vai via vai ti lascio la strada libera anche se non sono nemmeno però ti lascio la strada c'è troppa gente qua sento sento più che c'è no, un ragno con l'oreola e sta volando in realtà bello non ucciderla se no poi ti manda all'inferno no l'ho ucciso diamante no l'ho ucciso no l'ho ucciso devo un attimo togliermi che devo prenderti le proprie mia mamma ciao ciao oh perché frizzi no 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 è un po' perché appunto non non cioè i compiti lo fatti quello l'ho fatto ho carezzato il gatto ho fatto tutto ho fatto quindi niente il gatto non c'entrava però i compiti sì ok basta basta, devo trovare la rava la rava come cavolo ho fatto a dire rava chi lo sa dai ma un po' di lava no mamma mia mi fai paura allora lava come sei lava come lavi mamma mia ma perché c'è così tanta acqua e non c'è lava un controsenso scusatemi nel caverno ci dovrebbe essere più lava che acqua ok magari ho detto una cavolata megagalattica e non lo so nemmeno però vabbè perché dovrebbe esserci più acqua che lava scusatemi dai sta frizzando un botto ma perché frizzi sei cattivo sei cattivo se ho qualcosa no non l'ho preso mannaggia a me tanto ho l'acchi più inventory oh che rompiscatole che sei sono morto sono morto sono morto sono morto vabbè ragazzi questo era solo un video così per far vedere appunto il mio mondo cosa sto facendo cosa la serie cosa appunto dove si dove andrà a finire ecco quindi direi che da Andrix098 da Michael è tutto al mio 3 1 2 3 ciao a tutti ciao a tutti è arrivato a scoppiare il ritardato poverino no devo togliere lo schermettero quindi bla 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 ok basta quindi da Michael e da Andrix098 è tutto ciao a tutti ciao a tutti